Ciao a tutti, ecco il secondo video della domotica con il Commodore 64. In questo video voglio parlarvi del controllo carichi, la funzione che serve per misurare i consumi dell'abitazione. Avevo già mostrato, nel primo video relativo alla domotica, come mi collego all'impianto control casa. A parte il Commodore 64, i componenti che ho utilizzato per effettuare questo esperimento sono il modem wifi collegato alla user port del Commodore, il floppy disk drive 1541 che mi serve per caricare il software, il software ccgms che ci serve per collegarci alla rete e che impropriamente possiamo definire come un Internet Explorer e si può scaricare liberamente da internet. Infine la detail action replay che utilizzo per caricare più velocemente il software. Se seguite il link che ho messo in descrizione potete raggiungere anche il primo video che avevo realizzato sulla domotica dove accendevo e spegnevo delle luci e aprivo e chiudevo delle tapparelle con il Commodore 64. Per connettermi al sistema domotico devo caricare ccgms che mi serve per accedere alle pagine dell'impianto domotico. Il modem è già connesso alla rete wifi di casa per cui posso avviare il collegamento al sistema domotico. Dalla schermata principale del sistema domotico control casa si può vedere l'elenco dei moduli che compongono l'impianto domotico. A ogni modulo è associato un address, ogni modulo ha anche una descrizione che serve per individuare la funzione. Dalla schermata principale è anche possibile vedere lo stato dei moduli e quindi le uscite attive, se è presente una porta e una finestra aperta, la temperatura, la luminosità della stanza ed altre informazioni ancora. Tramite il tasto invio si può navigare tra le varie pagine che elencano i moduli. Per entrare nel modulo del controllo carichi, il control meter, digito l'address 5. La pagina che si apre contiene le misure istantanee del consumo di energia elettrica di acqua e si aggiorna ogni 5 secondi. Per quanto riguarda l'energia elettrica, posso vedere il consumo attuale ed il limite massimo, oltre il quale potrebbe staccarsi il contatore. Dovessi superare il limite, il sistema domotico provvederebbe a distaccare alcuni carichi, in sequenza, prima che salti la corrente. Se mi perdonate un po' di rumore, proviamo ad accendere un phone e a vedere che cosa succede alla potenza elettrica, attendendo qualche secondo tempo che il comodo raggiorni la pagina. Il consumo di energia elettrica aumenta ed è comunque inferiore al limite, per cui non temo alcun distacco. Tramite la riga magnetotermici, posso vedere lo stato degli interruttori magnetotermici dell'impianto. Sono suddivisi in gruppi. Dovesse scattare un magnetotermico, potrei vederlo qua. Proviamo. Apriamo un interruttore magnetotermico, ad esempio questo delle tapparelle elettriche. Tornando sul Commodore, posso vedere che uno dei gruppi è diventato rosso ed è indicato come off, ma ora vado a riattivare il magnetotermico, altrimenti il sistema domotico è programmato per inviarmi un email d'allarme. Relativamente al consumo d'acqua, possiamo vedere la pressione, la portata istantanea ed anche la quantità d'acqua che sto utilizzando, in 30 minuti e in totale. Aprendo un rubinetto, posso vedere come il sistema abbia correttamente misurato la portata dell'acqua e stia anche conteggiando i litri che sto consumando. Oltre ai vari consumi d'acqua, il sistema domotico mi avverte se la pressione è inferiore a un limite impostato, oppure se ci sono delle perdite d'acqua. Infatti, può rilevare se ci sono consumi anomali. Anche per questo secondo video, gli esperimenti sono terminati. Spero che anche questa parte sul controllo dei consumi vi sia piaciuta. Un saluto da Medeo Valoroso.